Incontri, workshop ed eventi formativi per aggiornarsi sulle novità normative, offrire momenti di confronto fra addetti ai lavori ed esperti, dibattere sui temi della sicurezza urbana, conoscere e testare direttamente le strumentazioni e le tecnologie di ultima generazione. Al Palacongressi di Riccione tre giornate di lavoro in occasione del più grande convegno nazionale dedicato alla polizia locale e organizzato dal gruppo Maggioli. Riccione ha la sua 43esima edizione, un'edizione bagnata a quanto pare, quindi mi auguro per questo tra le più fortunate. Una Riccione che è sempre più momento di incontro, un momento di incontro per polizia locale, amministratori, sindaci, aziende, quasi più di 100 espositori, attesi 2000 partecipanti, quindi un momento topico di incontro, un momento in cui il gruppo Maggioli ritiene di essere portatore di quelle competenze, di quelle conoscenze che permettono a chi partecipa di avere una panoramica sui grandi temi che riguardano la polizia locale, temi che non sono più i soliti, i consueti, quelli con i quali abbiamo iniziato a organizzare questo convegno, ma temi sempre più evoluti che riguardano la sicurezza, che riguardano i cittadini, che riguardano la cyber security, che riguardano l'intelligenza artificiale, quindi temi infinitamente ampi, perché questo è il ruolo della polizia municipale nelle nostre città. Una polizia municipale è un convegno quindi che noi vorremmo sempre più internazionale, sempre più europeo, un po' come il gruppo. Non è un caso che quest'anno tra gli espositori infatti figurino più paesi rappresentati, quindi Germania, Svizzera, Francia, America e questo credo che sia un bel segno. Se è vero come è vero che siamo in Europa e questi sono temi davvero internazionali, ben venga un approccio europeo e quindi la possibilità anche per chi frequenta questo momento di interfacciarsi con colleghi, interlocutori che hanno una visione anche su altri paesi europei. Per il gruppo Maggioli l'occasione di presentare Concilia Evo, l'evoluzione della piattaforma per la gestione delle attività dei comandi di polizia locale. Concilia Evo fa parte del percorso di continua innovazione che comunque noi portiamo all'interno dei comandi e mi permetto di dire anche con l'evoluzione che con i comandi stessi in qualche maniera concordiamo. Concilia Evo è il proseguo della piattaforma Consiglia che comunque già oggi ha ottenuto un ottimo risultato di mercato, oggi tanto per dare qualche numero stiamo parlando di oltre 2000 comandi che stanno utilizzando la soluzione Consiglia. Concilia Evo è la soluzione verso il cloud, quindi parliamo di una soluzione cloud nativa che consenta ai comandi in qualche maniera di percorrere il percorso di trasformazione digitale che in qualche maniera il PNRR ma l'Europa e quant'altro ci stanno chiedendo per far evolvere il nostro paese, per fare i processi che gestiamo all'interno delle pubbliche amministrazioni, nel caso particolare di Concilia Evo nel percorso dei comandi della Polizia Municipale. Devo dire che questo percorso per noi è decennale da questo punto di vista qui ed è un percorso che facciamo tipicamente a braccetto con i comandi da questo punto di vista qui perché l'innovazione non può essere solo tecnologica come ho accennato su Consiglia Evo per quello che riguarda la tecnologia cloud e quindi tutti i benefici che può portare dal punto di vista del lavoro in mobilità e i comandi sanno benissimo quanto sia un'esigenza impellente questa ma anche proprio nella gestione dei processi e nel miglioramento degli stessi, quindi spesso e volentieri la nostra innovazione viene portata anche da un confronto continuo che noi abbiamo quotidianamente con tutti i nostri clienti che anche accettando le critiche sostanzialmente ci aiutano a poter fare un percorso di crescita delle nostre soluzioni e poterle mantenere diciamo a un livello di competitività e di gradimento da parte dei nostri clienti molto elevato. I temi in grande evidenza di questa 43esima edizione sono quelli relativi alle più recenti novità legislative con particolare riguardo alla riforma del codice della strada. Iniziamo i lavori della 43esima edizione delle giornate della polizia locale, un appuntamento oramai tradizionale direi quasi storico, quest'anno sono più di 100 i relatori si altereranno in due giorni e mezzo e con loro si affronteranno da parte delle centinaia anzi migliaia di persone iscritte tutti i temi che riguardano la polizia locale quindi la qualità della vita dei cittadini. La sessione di apertura di quest'anno è dedicata anche doverosamente alla riforma del codice della strada, un tema di cui si dibatte molto anche a livello parlamentare ma una riforma che stenta ad uscire e a diventare concreta nonostante i dati sull'incidentalità della strada siano veramente allarmanti. Basti pensare che ogni tre ore nel nostro paese muore una persona e ci sono 77 feriti sulle strade. Questo dimostra l'urgenza di una riforma, le polizie locali sono prontissime ad affrontare e interloquire anche su questi temi con le forze governative e da oggi qui ne dibattiamo intensamente. Gli autovelox spesso vengono visti dagli automobilisti insomma come un nemico e da quale stare alla larga però hanno anche una funzione molto importante per quanto riguarda la salvaguardia delle persone e degli automobilisti ma non solo. L'Istat indica una delle cause principali di incidenti stradali è quella della velocità. In questo momento c'è una battaglia fortissima, dobbiamo secondo me trovare un momento di pace tra cittadini, istituzioni, le regole sono state riscritte, credo che gli interventi soprattutto delle prefetture dove è necessario installare sia assolutamente utile. In un momento in cui però i morti sulle strade aumentano, gli investimenti di perdoni dovuti all'alta velocità, le fuoriuscite autonome. Per cui credo che bisogna tornare a sedersi e pacificarsi, credo che sia più importante. Dall'altra parte le polizie locali sono impegnate, ci sono oltre 50.000 operatori in tutta Italia che hanno voglia di dare più sicurezza stradale in questo paese. Attenzione puntata anche sul contrasto alla violenza di genere. Credo che sia fondamentale aggiornare il nostro personale, le necessità di intervenire tempestivamente a seguito di una denuncia proprio con i reati di violenza di genere ha bisogno di formatori e di competenze specifiche. Lo stiamo facendo anche in questi giorni a Riccione e necessita un rapporto strettissimo con i pubblici ministeri. Ci sono degli accordi, delle convenzioni in atto anche con le associazioni per aiutare le donne, però serve formazione, quello è il punto fondamentale. Novità in arrivo anche per i possessori dei monopattini, finiti in passato al centro di dibattiti e polemiche. Oggi dovrò affrontare il tema della cosiddetta mobilità dolce, ma in particolare della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e anche in questa riforma subiranno delle importanti novità, che riguarderanno in particolar modo l'uso obbligatorio del casco per tutti i conducenti, quindi non solo per i minorenni. Poi l'obbligo dell'assicurazione, l'obbligo dell'assicurazione è sicuramente un'innovazione da più parte richiesta e poi avremo anche l'obbligo del contrassegno identificativo da porre sul retro dei monopattini elettrici per renderli identificabili e quindi per individuare i responsabili della circolazione. Inoltre ci saranno notevoli novità anche per quanto riguarda proprio la gestione del contrassegno, perché ci sarà l'obbligo di comunicare ogni trasferimento di sede o di residenza dell'intestatario e quindi questo servirà per individuare il responsabile della circolazione anche ai fini della responsabilità solidale, quindi per notificare eventuali verbali in caso di violazione laddove il trasgressione non sia individuato, cosa che oggi sostanzialmente è impossibile. Poi ci saranno piccole modifiche anche per quanto riguarda le regole della circolazione, ad esempio i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, a differenza di oggi, non potranno assolutamente circolare fuori dal centro abitato. Per quanto riguarda invece i ciclisti ci sarà anche qui una modifica di quelle norme entrate in vigore del 2020 e 2021, ad esempio verrà imposto ai conducenti dei velocibili di tenere accese le luci in centro abitato anche di giorno, come avviene già ad esempio per i ciclomotori a due ruote, oppure nuove regole per quanto riguarda l'obbligo di accensione delle luci nelle condizioni di scarsa visibilità che oggi è affidata all'articolo 68, se la riforma sarà approvata sarà affidata all'articolo 153, quindi ci sarà anche un aumento della sanzione. Durante la tre giorni si parla anche di infortunistica, videosorveglianza, privacy, tecniche operative e di difesa personale e nuove frontiere della tecnologia. 2.000 ai partecipanti che potranno anche visitare l'ampia mostra espositiva internazionale alla quale partecipano le maggiori aziende operanti nel settore. Giornate della polizia locale organizzate a Maggioli sono un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Anci come da tradizione anche quest'anno partecipa attivamente con la promozione anche di riflessioni, dibattiti, relazioni importanti sullo sviluppo e le novità, soprattutto che riguardano le nuove regole del codice della strada. C'è tanta attesa per ciò che riguarda i problemi legati alle mortalità sulle strade che non diminuiscono e serve un'alleanza centrale e territoriale, centrale col governo, governo comuni, territoriale con i cittadini per migliorare le condizioni. Gli operatori di polizia locale sono riuniti qui, si stanno impegnando, stanno lavorando per approfondire come è meglio utilizzare le nuove tecnologie, la digitalizzazione, il rapporto nuovo tra cittadini e pubblica amministrazione nell'ambito anche dei finanziamenti del piano nazionale ripresa e resilienza su cui siamo fortemente impegnati per accompagnare l'attuazione sul territorio. Grazie a tutti.